Il gol che sblocca la partita è arrivato subito. Lo vede? Parata eccezionale questo. Alla gol del Ben Yeder. E c'è il gol, aumenta nel proprio vantaggio. È in buona posizione. E c'è la rete e la riaprono con questo gol. Può colpire da lì. È tutto solo. Balla in rete, trova il gol del più due vantaggio che comincia a farsi importante. Siamo 3-1? Magari non finirà così. Ben Yeder. Opportunità per Ben Yeder. E c'è il gol. Occhio avverratti. Occhio al tiro. Prova la botta. Palla che finisce. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. 1-0. È arrivato il gol. Opportunità per Ben Yeder. La super parata di Courtois. Molto spazio per andare. Può far male da lì. Ben Yeder. Ma ci vediamo. Grazie a tutti.